Ci avete seguito? Ci avete seguito? Ecco, adesso... È stata breve, ma intensa. Ma sarà ancora più intensa domenica 22 alle 21 e 30 su Canabi 5 sempre con Luca Capuano e Marianna De Micheli ci sarà una puntata molto lunga, intensa tanti colpi di scena Non essere serio così? Qui è, diciamo così Stiamo dicendo delle cose serie, vere No, questo è molto divertente perché sarà una serata molto divertente Non lo facciamo troppo lungo che se no poi ci impiega una vita a caricarlo sul server A domenica, ciao!